È una campagna che ho lanciato già da alcuni anni, veramente, e mi sono trovato alla mia parte anche l'ex giornalista vaticanista Bucarelli, tra l'altro ischitano d'adozione, mi pare, che molto gentilmente ha condiviso questa battaglia. Una battaglia, chiamiamola battaglia, ma è un invito a fare delle considerazioni. Questi botti che vengono sparati a tutte le ore, dalla mattina, dalle sette fino alla sera. Io posso pure capire lo spettacolo pirotecnico che si tiene di sera, con i colori, la parte cromatica, la parte tecnica, l'avvertura, la chiusura, eccetera. Ma al mattino, dalle sette, passa sta nave, saluta il santo e lui risponde. Ma sono metodi che ormai, secondo me, appartengono a una tradizione fusa, non ormai superata. Poi la cosiddetta tradizione della Rihanna, questa qua che si deve sparare al mattino, ma a che servono? Dici, no, ma quella serve a ricordare a noi che santo è. E ci sta bisogno, ma se non ti ricordi sono problemi tuoi di Alzheimer, non è il problema che dobbiamo rompere le scatole a tutti con queste botte per ricordare questo. Uno. C'è il problema poi delle processioni. E poi c'è il problema delle processioni. Una volta facevi una processione ogni tanto, ma mi pare che è diventata una consuetudine da quando probabilmente sono cambiati anche i rappresentanti della curia ischitana. E non lo so, mi pare che sono aumentati a dismisura queste processioni. Non solo, ma sono allungati anche i percorsi. Ma a che serve andare ancora in giro a manifestare questa propria idolatria che non serve? Cioè, chi vuole manifestare la propria fede? Ma se sono andate in chiesa, le strade bloccate, le auto costrette a parcheggiare altrove con tutti i disagi che sappiamo tutti quanti. E qua a Ischia, in un periodo estivo, ma c'è bisogno di fare queste manifestazioni per acquisire la fede o per dimostrare che si ha più fede degli altri. E l'ultima cosa, l'ultima nota, scusa, la completo, è questo eccesso di abuso di decibel del frastuono delle campane. Una volta, per suonare le campane, bisognava fare una bella fatica a pendersi alle funi. Ma è diventato più comodo, basta mettere il ditino sulla cosa e lo va automaticamente. Che te le freghe tanto, basta mettere il ditino. Sono aumentati i decibel. Oggi che siamo dotati di tablet, smartphone, telefonini e possiamo gestire tranquillamente l'orario. Ma questa bisogna pure la campana che mi deve ricordare che è mezzogiorno. Ma scherziate, siamo nel 3000.